Vivi Città, questa bella manifestazione che quest'anno festeggia Ferrara il 40esimo, è una manifestazione nazionale considerata la corsa più grande del mondo. Si corre in 37 città italiane e città estere e a Ferrara quest'anno, proprio in occasione del 40esimo, abbiamo introdotto una serie di novità. Innanzitutto è una manifestazione in cui abbiamo la parte competitiva, la mini-podistica e la parte non competitiva, quindi tutta la ludicomotoria con la camminata, a cui tra l'altro seguirà in coda l'attività di plugging organizzata da Lega Ambiente in collaborazione con CIDAS. Inoltre sarà possibile quest'anno partecipare anche con gli amici a quattro zampe, quindi una manifestazione a tutto tondo davvero l'emblema dello sport per tutti. Tantissime le novità di quest'anno, innanzitutto il villaggio delle associazioni, quindi molte delle associazioni con cui noi collaboriamo a vario titolo, in progetti o altre organizzazioni di manifestazioni anche solidali, che avranno una collocazione in una sorta di villaggio delle associazioni di volontariato, in cui ci sarà tra l'altro un taglio del nastro previsto per le ore 9.15 con la presenza dell'assessore Coletti. Un'altra novità di quest'anno è, abbiamo introdotto grazie alla collaborazione con Arci, due punti in cui ci sarà la musica durante il percorso che allieterà il passaggio degli atleti e anche non degli atleti, quindi anche delle famiglie che vorranno partecipare alla manifestazione. Quarantesima edizione per una manifestazione bellissima che abbraccia non solo Ferrara, ma all'Italia e anche all'estero. Una manifestazione che contiene al suo interno sia una parte competitiva, sia una parte non competitiva e questo devo dire come amministratore locale con delega allo sport e la parte più importante, ossia fare in modo che le persone, i ragazzi e le ragazze all'aria aperta possano svolgere attività motori, attività fisica. A tutto ciò si aggiunge un'attenzione particolare all'ambiente e al volontariato con quel pizzico, come dire, di amicizia in più per i nostri amici a quattro zampi. Quindi direi che ci sono tutti gli ingredienti perché anche questa quarantesima edizione di Vivincità sia il successo che merita. Un'iniziativa che parla sicuramente di ambiente, di sostenibilità, di benessere ma anche di animali. Infatti è la prima volta che sarà consentito al proprio amico a quattro zampi di accompagnarci nel percorso, nei chilometri della camminata. Ma al contempo si parla anche di benessere e sostenibilità perché per fortuna c'è sempre una maggiore sensibilità verso l'ambiente e vivere in un ambiente sano vuol dire anche fare sport e attività in un ambiente sano, che ha un beneficio sia per la salute ma soprattutto anche per l'umore e per la salute psicofisica.